Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio seminare i semi di girasole. Qui c'è scritto che sono girasoli nani, me lo voglio augurare. Al tatto sembrano pochi semi, quindi ho preso un vasetto piccolino. Poi dopo l'esperienza delle ultime volte, vasi grandi, tanta terra e poi ho buttato via tutto, sin che adesso ho la terra decente. Però nell'eventualità preferisco prenderlo piccolo e poi se esce e diventano grandi, cambio vaso. Preferisco così. Niente, questi sono i semi. Subito, ah, le mie super forbici. E apriamo. Vediamo se sono... Ah no, sono direttamente liberi così. No, ma sono classici semi, sono classici semi di girasole. Io pensavo chissà che cosa fossero di particolare. Vabbè, niente, li metto qua, devo aprirli dopo. Ma vabbè. Niente, vasetto piccolo. Questo è il nuovo periccio che sto utilizzando e mi trovo benissimo. Non è una schifezza come quell'altro. Ando a queste qua. Io inizio con tutti gli attrezzi del mondo, poi abbandono tutto il uso del malico. Come al solito, sono molto professionale. Faccio vedere che c'ho qua, che c'ho là e poi non uso niente. Sono molto primitiva, come dico io. Ok, come al solito si riempie il vasino. Anche qua, così. Ok. A volte si formano queste giole piccoline, mi fanno venire un nervoso. Ma vabbè. Abbiamo le mani apposta per questo. E poi Riempiamo così. Ok. Teniamo così, tutto il giù. Questo, questo non serve più, questa schifezza. E poi ci mettiamo questi semini. Qui oggi è una brutta giornata. Piove e non si può fare granché. E vabbè. Niente. Non metto questi semini così come vengono. Mi sono subito dalle mie parti a brecchio. E via. E vediamo cosa succede. Vabbè, adesso resistiamo un po'. Non mi metto proprio così. Ecco. Mettiamo un po'. Non scherzo. E poi con una manciata di terra e copriamo tutto questo. Ma sì, abbondiamo tanto. E ora va. con questo super con questo super annaffiamo. Non so se si può chiamare annaffiatoio, sto cosa. Non ho idea. Vabbè, comunque annaffiamo abbondantemente. tanto poi scenderà di sotto. E niente, sul cartellino c'è scritto che, vabbè, germinazione 10-15 giorni. Ammazza. Alla faccia del nano. Questo girasola, alto, 2-3 metri con fiori gialli intense e poi, mamma mia. Vabbè, nel mal dell'ipotesi la porterò giù nell'aiuola. Magari sul fondo, così riesco magari anche a legarmi a cosa spettiva. E mi ha fatto una ringhiera. Vabbè, intanto vi aggiornerò su che cosa succede e se uscirà qualcosa. Niente, grazie per la compagnia, grazie per la visione e ci vediamo domani con un altro video. Ciao, ciao! Rapido aggiornamento. Ecco qua i semi di girasole come sono cresciuti. In giro di una decina di giorni sono cresciuti così tanto. Volevo subito farveli vedere. Pensavo ci volesse un po' di più di tempo ma invece sarà il caldo, sarà la pioggia, sarà tutto. Sono cresciuti. Chissà cosa uscirà. Se verranno grandi grandi o se rimarranno nani come c'è scritto. Vabbè, vi aggiornerò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.